Il 6 gennaio scorso, puntuale come ogni anno, la Befana ha fatto visita ai bimbi di Spoleto e delle frazioni della città ducale. Significativo l'evento organizzato dalla piccola Colle del Marchese, che nonostante le condizioni meteorologiche avverse, è riuscita a vivere la magia dell'evento preparato nei minimi particolari. Il circolo ricreativo del Colle è riuscito a garantire, nonostante il ridimensionamento dovuto all'incessante pioggia dell'ultimo minuto, un risultato oltre le aspettative. Tutti con la testa rivolta all'insù per ammirare la Befana volare tra il campanile della torre di San Pancrazio e la torre campanaria. Primi tra tutti i bimbi del Colle, che non curanti della pioggia, hanno potuto assistere e incantati allo spettacolo. La simpatica vecchina è poi scesa in piazza tra grandi e piccini con il suo carretto per distribuire giocattoli, dare l'avvio al rinfresco e ammirare insieme a tutti i presenti i fuochi d'artificio del Colle. Un applauso alla Befana! Altro scenario stesso entusiasmo. A Spoleto le Befane sono state addirittura tre, ognuna delle quali affacciate da un diverso palazzo di piazza Garibaldi. È stata proprio la piazza, infatti, ad accogliere i bambini con gonfiabili e costruzioni appositamente allestite nel primo pomeriggio fino al calar della notte, quando le vecchine sono apparsi attirando tutta l'attenzione. D'obbligo il lancio di caramelle e dolciumi dagli edifici, ed una volta scese in piazza per distribuire altri gadget, le tre Befane sono state letteralmente prese da salto da bambini elettrizzati e i genitori altrettanto appassionati.